Il Comune di Teramo è il primo ente a pubblicare un report con i numeri dei contagi registrati nelle scuole. I dati riguardano al momento gli studenti e le studentesse sia in numero assoluto che divisi per classe, mentre sono in lavorazione i dati su docenti e personale scolastico. Una operazione di trasparenza da parte dell'amministrazione comunale a riprova di come le decisioni adottate nei giorni scorsi, con la chiusura di due scuole, siano dettate dall'analisi dei numeri comunicati. L'abbiamo definita operazione di trasparenza da parte dell'amministrazione comunale perché vogliamo far sì che i nostri cittadini siano sicuri ed abbiano piena fiducia nelle istituzioni. Quindi rendere loro e dotti di quelli che sono i numeri all'interno delle scuole era il primo passaggio. Così abbiamo anche fatto comprendere il perché siamo intervenuti su due situazioni che evidentemente rappresentavano un vulnus sul panorama comunale delle scuole di nostra competenza. Ora ci aspettiamo però che lo stesso venga fatto anche dalle altre istituzioni perché non è ammissibile che vengano prese delle decisioni senza avere la contezza dei numeri. Quindi avere un report pontuale ci permette di fare la fotografia dell'esistente e sulla base di quello regolarci per le decisioni da prendere in futuro. Dal punto di vista dei numeri, secondo lei le scuole dovrebbero essere chiuse? Anche oggi sulla stampa leggevo gli interventi di due noti esponenti del mondo sanitario i quali prendevano posizione per la chiusura o per il mantenimento e l'apertura dei plessi. Io credo che la scelta più saggia sia quella di valutare in trasparenza e in sicurezza quelli che sono i casi scuola per scuola, fin tanto che questo sistema ci permette di reggere. In determinate situazioni dobbiamo sempre lasciare prevalere il diritto all'istruzione, il diritto alla formazione perché come abbiamo più volte ripetuto, l'istruzione non va intesa come un servizio di babysitteraggio alle famiglie ma rappresenta il più grande investimento per il futuro di questo Paese. E' altrettanto vero però che di fronte a situazioni emergenziali dobbiamo essere pronti anche all'istrema razio e quindi a tutelare prima di tutto quello che è sancito l'articolo 32 della Costituzione, ossia il diritto alla salute della nostra cittadinanza.